ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale allora andiamo subito a fare le missioni che ci mancano raga sono sostanzialmente raccogliere un bel po di moneta ancora dai carnivori andiamo subito subito a farlo ragazzi di qua prendiamo questi spero vi sia piaciuto ragazzi il video precedente quello di oggi pomeriggio tanto abbiamo fatto una bella missione nuovo che sono tutti questi bagagli dinosauri non fanno valigie e volano via per le vacanze estive se una cosa di questo posto sicuro non sarà il tuo senso del humor perfetto ho sentito prima di andare pensato al tuo rimpiazzo allora raccogli due milioni di monete a tutti i dinosauri ottiene otto fontane raccogli una unità di crisi due volte ok va beh ci vorrà anche questo un bel po come come tempo per farlo però tanto si riesce a fare con il tempo ragazzi e il video di oggi pomeriggio era veramente una battaglia al volo giusto per farvi vedere i miei progressi del parco ragazzi prendiamo tutto quello che c'è di qua cosa che si aggiornato ok ok abbiamo già sei fontane su otto siamo già a 140 mila su due milioni dai non è male facciamo mettiamo già le due fontane se abbiamo i soldi allora fontana fontana sia qua e ma quale io non sei su otto mi dice vediamo un po quali potrebbero essere queste qua una o queste ma due tre quattro cinque si sono queste qua più grosse che costeranno una cifra improponibile suppongo 213 mila vabbè mettiamone un'altra qui vediamoci anche l'ultima e 8 così anche questa missione qui si porta avanti raccogli due volte l'unità di crisi ok l'unità di crisi qual è ragazzi io non ne ho idea comunque lo troveremo quindi non è un grosso problema ma sarà qualche edificio qua in zona comunque riuscirò riuscirò a farlo cos'altro manca qua 150 mila monete al codice rosso quello dell'altra volta ci sto provando ragazzi ma è veramente difficile ok raccogliamo il pacchettino lo voglio raccogliere dopo intanto ci spostiamo di parco e ci vediamo su quello dopo eccoci qua allora andiamo subito a vedere la spedizione dna cosa ci porta assolutamente nulla di buono mille culture a niente gratis attiviamo i porti ragazzi ovviamente e andiamo anche a prenderci il pacchettino di carta e free pack allora vediamo un po ci trovo carne duemila monete zanne e zanne per i combattimenti chiaramente nel prossimo video andiamo a fare un bel video di combattimenti gli temi se vi piace ragazzi ma sicuramente è da un po che non lo faccio quindi mi mancherà andiamo avanti di qua prendiamo un po tutto quello che ci capita a ok ok dimissioni qua cos'è che devo fare io mi ricordo allora perfetto 100 mila monete dall'ufficio sicurezza ottimo e poi 200 mila monete dall'amu planoso siamo a 98.000 perfetto dire che qua parco veramente al volo ci spostiamo su quell'acquatico ok eccoci qui ovviamente subito a vedere la spedizione siamo a livello 71 e non so se avete notato prendiamo tutto qui prendiamo tutte le missioni di qua cosa sono prendere un corallo rosso ottenere due milioni di monete e attivare il porto costacei ok questo qui lo andiamo a fare perché tanto ci siamo già e l'abbiamo fatta 2 milioni di monete ci vorrà un po non tantissimo che comunque i dinacquatici ragazzi prendono veramente veramente tante monete quindi non è un grosso problema perfetto ok 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 vediamo alla fine di tutto quante monete già ho vediamo anche queste anche i piccoli palazzi ci stanno perfetto perfetto panoramica al volo di tutti i miei parti almeno vedo un po a che punto sono allora siamo già arrivati a 948 mila monete su 2 milioni ok mi serve un corallo rosso che andiamo subito a comprare qua mettiamolo qui ragazzi perfetto mancherà solamente prendere i due milioni di monete ma siamo già quasi a un milione quindi non sarà un grosso problema ragazzi se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale vi lascio il logo in descrizione per farlo anche i miei ultimi due video così da poter rivedere al meglio così capito un attimo anche appunto sono sul sull'altra app che dire ragazzi vi ringrazio veramente di cuore e ci vediamo al prossimo video bella a tutti